Federpol Italia ha organizzato a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Forense l'ultimo corso di aggiornamento professionale del 2023 per chi opera nell'accampo dell'investigazione privata. Una lunga giornata di lavori contraddistinta da numerosi interventi grazie a cui permettere ai partecipanti di ottenere 5 crediti formativi fondamentali per il rinnovo delle autorizzazioni esensi della DM 269 e esensi del regolamento sulla formazione continuo approvato proprio dal Consiglio Nazionale Forense. L'avvocatura istituzionale ancora una volta si cala nella realtà quindi entra nel mondo delle altre professioni. L'avvocatura vuole partecipare attivamente come sta facendo in questo corso con la Federpol alla formazione culturale e all'approfondimento della conoscenza culturale di tutti coloro che aiutano i cittadini a difendersi. L'avvocato è il tramite tra il cittadino e la giustizia. La crescita della cultura dell'avvocato passa per la crescita culturale per la formazione di tutti coloro che aiutano gli avvocati a difendere meglio i cittadini. Il coronamento di un anno di sperimentazione di questo protocollo di intesa siamo a chiudere l'anno formativo della Federpol proprio qua dove è nato il protocollo nella sala Aurora del Consiglio Nazionale Forense. Quindi è un grande onore per noi. Devo fare i ringraziamenti, devo ringraziare il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco, devo ringraziare il vicepresidente Brienza della Scuola Superiore dell'Avvocatura, devo ringraziare il segretario della Scuola Superiore dell'Avvocatura l'avvocatessa Giovanna Nola e Stefano Bertollini, l'avvocato Stefano Bertollini e oggi il tesoriere che è qua, l'avvocato Pizzuto. Erano doverosi questi ringraziamenti perché crediamo fermamente in questo protocollo di intesa. La sperimentazione è andata molto bene l'inizio del protocollo che durerà tre anni è andato molto bene perché abbiamo avuto un grande interesse da parte della classe forense che talvolta sconosce la nostra professionalità gli ambiti operativi dell'investigatore privato. Infatti il protocollo è nato proprio per informare e formare la classe forense delle criticità e delle opportunità che l'investigatore privato può apportare alla verità processuale e a un giusto processo. Sulla formazione si nota un'attenzione sempre importante e costante da parte ovviamente della federazione. Al di là dell'importanza ci sono dei crediti che comunque nel corso dell'anno vanno per forza presi. Cosa si sente di dire a tal proposito? Mi sento di dire che guardando la locandina di questo corso rimango impressionato dell'autorevolezza che ha raggiunto la formazione della federazione perché questo corso oltre a erogare i crediti formativi per gli avvocati in presenza qui oggi al corso eroga i crediti per gli investigatori per il rinnovo delle autorizzazioni e questo è anche abbastanza scontato anche se non scontatissimo perché ci sono molti diplomifici in giro che rilasciano attestati che sembrerebbero avere valenza ma poi non hanno nessun logo universitario. La disciplina, la normativa nostra esige un aggiornamento rilasciato dalla università e quello di Federpol esprime questo requisito a pieno ma non solo eroga anche crediti per i security manager perché è riconosciuto dai CMQ che è l'ente certificatore di questi corsi e dei professionisti che sono accreditati i security manager, i DPO e anche il criminologo professionista per cui siamo molto orgogliosi dei nostri corsi di formazione. Direi che la nostra formazione grazie anche al contributo della scuola superiore dell'avvocatura ha raggiunto livelli impensabili. È necessario che per poter lavorare professionalmente che ci sia sempre una formazione da un punto di vista diciamo legislativo e quindi di una preparazione su come affrontare normativamente le attività e allo stesso tempo una formazione a livello tecnologico perché c'è uno sviluppo continuo delle apparecchiature tecnologiche che ci servono per poter migliorare il servizio dare qualcosa di maggior qualità. Nello spazio dedicato ai saluti istituzionali ha preso la parola anche il dottor Agostino Ghiglia componente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, occasione utile per ragionare su questioni complesse e che riguardano praticamente ogni individuo della società. Proteggere il dato personale che in rete diventa un dato digitale vuol dire proteggere la persona fisica nella sua parte più intima, più riservata appunto. Quindi credo che ci sia la volontà di tutti di crescere anche culturalmente in questo spirito, cioè abituarci a considerare il nostro lato personale così come la nostra fisicità. L'intervista investigativa della dottor Ugo Terracciano e persona e personalità dell'avvocato Ciro Palumbo, questi alcuni dei temi affrontati durante il corso, diversi relatori autorevoli e preparati coinvolti per concludere al meglio un anno pieno di progetti avviati da Federpol.